Allora cari amici della rete, domani e dopodomani dobbiamo votare per le varie elezioni di carattere amministrativo, sulle quali non interloquisco, ma invece dobbiamo soprattutto votare per il referendum, cioè quello relativo al taglio dei parlamentari, per cui si è insenato che nella Camera ci saranno molto meno persone che ci rappresentano e quindi è una situazione più ristretta dal punto di vista delle persone che esercitano il potere. Io credo che questa sia una riforma sbagliata, nel senso che non soltanto, come si dice, non risulti inserita in un contesto di modificazione della Costituzione di più ampia portata, io stesso sono dell'idea che questa Costituzione sia arrivata al capolinea, nel senso che non interpreti più la società moderna con la quale ci confrontiamo. Però una cosa è fare un ragionamento globale, come era stato fatto in precedenti legislature, e altra cosa è invece provvedere con questi rattoppi dove appunto la toppa risulta essere peggiore del buco. Non si tratta di una questione di lana caprina, ma si tratta veramente di riflettere adeguatamente. Un parlamentare che rappresenta 80 mila elettori è un parlamentare molto diverso da quello che ne rappresenta 300 mila, perché quello che ne rappresenta 300 mila raggrupperà dentro al bacino delle esigenze che deve rappresentare in Parlamento non soltanto coloro che appartengono al suo partito, ma anche coloro che appartengono ad altri partiti, dei quali naturalmente non può che disinteressarsi, anche se potrebbe magari interessarsene per accaparrarsi il suo consenso, ma così non stanno le cose. La divisione tra partiti avviene non soltanto sul piano nazionale, ma anche sul piano territoriale. Quindi ogni deputato, ogni senatore pensa agli elettori del suo partito e non pensa agli altri. Questo comporta che dunque ci sarà un numero maggiore di persone, ci sarà un contesto di minoranze all'interno di quei 300 mila cittadini che vengono rappresentati che non troveranno la possibilità di essere ascoltati, che non troveranno la possibilità di far emergere le loro esigenze e fare in modo che il parlamentare se ne faccia interprete dentro alla Camera o al Senato. Quindi si tratta sicuramente di una perdita secca di democrazia che dobbiamo assolutamente evitare. Una cosa è che ripensando anche al bicameralismo, si utilizzino strumenti, si individuano norme, regolamenti attraverso i quali appunto la rappresentatività venga puntualmente osservata e rispettata. Un'altra cosa è invece fare queste cose becere, di tagli ispirati soltanto al populismo, alla ricerca di consenso per uno spirito di anticasta. Queste sono cose che non fanno politica, queste sono cose che fanno soltanto male al Paese e debbono essere assolutamente evitate. Quindi io credo per queste e per moltissime altre ragioni, perché ad esempio la possibilità poi di operare in Parlamento in maniera più estesa sotto il profilo della rappresentanza delle persone viene necessariamente pregiudicata e quindi è tutta una catena di negatività con la quale ci si dovrebbe confrontare che è assolutamente indicativa e produttiva di un ulteriore taglio non ai parlamentari ma di un ulteriore taglio alla democrazia. Già siamo sofferenti, già abbiamo un Presidente del Consiglio che fa quello che vuole, già abbiamo un Parlamento molto compromesso e mai ascoltato, già abbiamo legisferazioni attraverso decreti legge di cui nessuno si interessa e vengono convertiti come se nulla fosse. Togliamoci anche il numero dei parlamentari e veramente siamo alla frutta. Vi voglio poi dire un'altra cosa. Io sono molto sorpreso e dispiaciuto dell'atteggiamento del centrodestra che indica agli elettori di votare sì. Io dico ai vertici del centrodestra che stanno compiendo un gravissimo errore. Non ha importanza quello che sia avvenuto in Parlamento dal punto di vista del voto che è stato dato rispetto alla legge che oggi va sotto l'analisi del popolo. Si tratta di essere politici, si tratta cioè di tenere presente il contesto attuale. Il contesto attuale è tale per cui un voto no al referendum significa una coltellata al governo attuale che per parte è stato sempre per il sì e per l'altra parte si è trasformato da no in sì. Una coltellata, dicevo, al governo che potrebbe tradursi in quella che è l'unica esigenza della democrazia di questo Paese in questo momento e cioè quella di far cadere il governo e tornare alle elezioni. Fatte le elezioni, visto quello che sarà la maggioranza del Paese, naturalmente con l'accordo, con l'intesa e con la collaborazione della minoranza, della nuova minoranza, potranno farsi tutte le riforme costituzionali che si vuole, di cui sicuramente il Paese ha straordinario bisogno. Quindi domani e dopodomani andiamo a dire no al referendum per dire no al governo. Vi saluto.